Ciao, sono Beatrice e studio giurisprudenza all'Università di Verona. Lo consiglio a tutti, è un percorso che per me è stato bellissimo, quasi al termine, un po' mi dispiace. È stata un'esperienza bellissima, tra un po' andrò in Erasmus e spero che anche questa sarà una bella esperienza. E quindi vi consiglio a tutti in generale l'Università di Verona, che è un'università nuova. Ma diciamo che cerca di organizzarsi il meglio possibile, cerca di fornire agli studenti tutti gli servizi di cui hanno bisogno. E soprattutto il fatto che sia in particolare giurisprudenza un po' piccola, rende possibile quello che è il rapporto anche con i docenti, che non sono irraggiungibili, ma anzi cercano di aiutarci il più possibile. Quindi ve lo consiglio vivamente.